La crisi dei migranti e le sue conseguenze in Europa sono al centro dell'intervista con Franz Timmermans, primo vicepresidente della Commissione Europea, che andrà in onda su Euronews nel programma The Global Conversation a partire da mercoledì sera alle 20.45. Eccone un'anticipazione. Ho parlato con famiglie di rifugiati sull'isola di Kos in Grecia. Alcuni mi hanno detto, vivevo in un campo profugo in Libano, stavo bene, ma dopo due anni ho finito i soldi, avevo speso tutti i miei risparmi e non potevo più dar da mangiare ai miei figli. Ecco perché ho voluto portarli in Germania. Voi cosa avreste fatto? Io come padre farei esattamente la stessa cosa se ne avessi bisogno. Il Dipartimento statunitense per la sicurezza interna ha stimato che ci sono circa 4.000 militanti islamici infiltrati in Europa sotto le spoglie dei rifugiati. È una valutazione più o meno corretta? Lei teme un innalzamento della minaccia terroristica in Europa? Non conosco queste cifre e questa valutazione, quindi non sono in grado di commentarle, ma sembra ragionevole pensare che se la gente si sposta in Europa, in mezzo ci possono essere anche criminali o terroristi. Ci sono anche criminali in questo movimento, ci possono essere anche terroristi in there. That was a fascinating global conversation. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Work up the day, provenating alla prossima. Tutti i autres